Quanto è stimolante giocare queste partite e che cosa è fondamentale in serate come quella di domani? Per me queste partite sono molto belle per giocare, giocare a Stamford Bridge contro una squadra forte come Chelsea è sempre qualcosa che è molto buono. Per noi domani è fondamentale che noi stiamo molto compatti perché Chelsea è una squadra con grande qualità, loro sono anche molto forti in ripartenza e questo è un caso molto importante per noi domani, bisogna giocare tranquillo con la nostra tecnica che fa la differenza e alla fine noi bisogna stare forte a campo penso, bisogna fare una partita molto duro e questo è normale che Juventus fa così. Buongiorno Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport. Senti è una partita importante e la Juve di solito li affronta bene. Secondo te il fatto che la Juventus si comporti in maniera diversa quando ci sono le grandi squadre o le squadre piccole come magari succede in campionato è un problema soltanto mentale o pensi ci sia dell'altro? Non lo so, è una cosa mentale, penso che alla Champions le partite sono anche diverse perché alla Champions hai squadre più forti che lasciano più spazio per fare ripartenza per esempio. noi abbiamo giocatori come chiesa, come morati che hanno molto gambe e questo è un modo di giocare per noi per fare ripartenza. Penso che contro la squadra piccola noi abbiamo meno spazio e noi bisogna trovare un altro modo per creare occasioni e per fare gol e questa è una cosa che noi bisogna migliorare. Buon pomeriggio, Giovanni Albanese, Sport Italia. Senti alla luce della vostra doppia vita fin qui tra campionato e Champions League, alla luce delle ultime partite in Serie A e questa classifica che si è riaperta, quanto sarà difficile domani tenere lontana la testa dall'Atalanta? Secondo me non è difficile perché noi stiamo giocando per i Champions per arrivare primo, questo è qualcosa molto importante per noi, per diventare primo in nostro gruppo e noi guardiamo partite dopo la partita perché adesso abbiamo tante partite e non è possibile guardare avanti solo la partita che noi bisogna giocare. Ciao Mattias, Giorgio Musso di Cacciomercato.it, ti chiedo se è un tuo sogno quello di vincere la Champions League con la maglia della Juventus, grazie. Sì certo, non solo per me, penso che tutti a Juventus vogliono vincere la Champions, ma non è molto facile fare questo, però noi bisogna lavorare sempre duro per arrivare al nostro massimo e alla fine noi guardiamo come va, adesso stiamo migliorando la partita dopo la partita e noi bisogna continuare così. Buongiorno Mattias, Luca Cavallorti in Voredio, volevo chiederti se il ritiro presso Stavere Nazionale ha segnato una svolta nella vostra stagione, grazie. Abbiamo vinto due volte, questa è la cosa più importante per il nostro ritiro penso, ma secondo me abbiamo adesso mi sento un spirito diverso, penso che i tre soste che noi abbiamo avuto è stato molto difficile perché sempre prima di sosta abbiamo vinto qualche partita consecutiva e per avere continuità è molto importante che tu stai sempre insieme e penso che adesso è un periodo dove noi possiamo stare insieme e avere questa continuità. Ciao Mattias, Nicola Gallo, Gruppo Mediapason, proprio riferimento a queste due partite, siete tornati a non concedere nulla se andiamo a rivedere le partite con Fiorentina e Lazio non solo non avete subito gol ma l'impressione era che si potesse andare avanti a lungo e gli avversari non l'avrebbero fatto avete concesso veramente pochissimo, cosa è cambiato e perché avete questo rendimento un po' indivago avete fatto una bella serie prima, poi siete tornati a subire tanto e adesso un'altra serie avete iniziato senza subire penso che dopo il ritiro noi abbiamo capito cosa noi bisogna fare per essere Juventus per essere Juventus noi bisogna stare duro a campo, noi bisogna morire a campo noi bisogna avere questo spirito di soffrire secondo me contro Fiorentina, contro Lazio ho visto questo spirito per vincere, per essere forte a campo e questo è qualcosa molto importante per noi ti chiedo se è vero che hai iniziato concretamente a parlare con la Juve di un ipotetico rinnovo di contratto adesso no penso, adesso sto focussando, non so come si dice questo ma focalizzando solo al partito che noi bisogna giocare perché stiamo anche in un campionato di Serie A stiamo un po' in difficoltà prima adesso non bisogna avere giocatori che hanno solo il focus alla partita per vincere la partita perché siamo al novembre e per noi in questo periodo è solo importante di avere focus a Juventus Allora facciamo le due domande dei colleghi collegati cominciamo da TNT Riuscite a sentirmi? Sì, sì, sì Mattias, sabato ho detto che ci sono buone occasioni che Lukaku possa tornare per questa partita almeno sulla panchina, hai già giocato contro De Lui diverse volte in Italia quindi se gioca quanto sarà duro, quali sono le sue qualità che ti preoccupano soprattutto come difensore e forse sarebbe meglio magari non giocare contro De Lui domani, cosa ne pensi? Beh, ovviamente Lukaku è sicuramente un grandissimo attaccante, ha giocato in Inter credo che sia veramente molto veloce e molto forte è anche un ottimo rifinitore quindi credo che il modo in cui lui gioca sicuramente fa la differenza per il Chelsea e che ci sia o non ci sia beh, sicuramente sarà importante però alla stessa maniera anche il Chelsea senza Lukaku rimane comunque una delle squadre più forti in Europa quindi magari giocheranno diversamente con Lukaku sicuramente avranno un finalizzatore che possono utilizzare qualcuno che può appunto attaccare segnare e quindi con altri attaccanti magari potrebbero giocare in maniera diversa creare magari più spazi quindi dipende sì, sarà sicuramente diverso ma alla fine sarà comunque una partita molto difficile indipendentemente dalla presenza di Lukaku o meno ciao, buongiorno Mattias volevo sapere se la partita dell'andata quella che avete vinto una 0 tu la inserisci nelle tue migliori partite di sempre a livello personale e delle partite che hai vissuto ad alti livelli per me personale è stata una bella partita per noi e per la squadra anche penso ho giocato con molta maturità con tanta passione penso anche è stato il miglior partito della mia vita non lo so questo non è qualcosa che io penso ogni giorno a questo io sto provando a giocare al massimo sempre e no, questo non è stato un miglior partito per me grazie a tutti